In vista della possibile nomina di Piacenza, capitale italiana della cultura 2020, il presidente di Confapindustria, Christian Camisa, sottolinea quanto siano importanti e decisive le ricadute economico-occupazionali sul nostro territorio. Penso che un risultato come questo sarebbe estremamente importante, non solo dal punto di vista economico, perché ricordo che potrebbe portare a Piacenza un milione di euro di investimenti, che mi augurerei che servissero per percorsi, ma anche per fare un qualcosa di lungo termine che rimanesse sul territorio. Ma anche con un effetto, mi lasci dire, acceleratore, perché nel momento in cui tante persone vengono sul nostro territorio possono apprezzare non solo i posti straordinari che noi abbiamo, ma anche tutte le bellezze a livello enogastronomico e soprattutto nel momento in cui tante persone vengono, perché no, potrebbero anche apprezzare la posizione strategica, magari arrivando anche all'insediamento di attività sul territorio. Qual è il valore di Piacenza che non è ancora stato sviluppato e che invece bisognerebbe valorizzare? Ma io penso che nell'ultimo periodo siano fatti molti passi avanti, perché se pensiamo alla valorizzazione del Duomo con il Guercino, tra l'altro il Duomo nel 2022 farà 900 anni, se pensiamo adesso Santa Maria di Campagna con il Pordenone, però se dovessi pensare a un qualcosa che forse nemmeno i piacentini conoscono e che Piacenza ha probabilmente il più importante archivio religioso dopo quello del Vaticano, quindi questo potrebbe essere indubbiamente una di quelle perle da valorizzare e incentivare. Tassello essenziale, lo sviluppo della comunicazione. Un grande passo è stato fatto, in precedenza non si sono sfruttate le occasioni, questa volta mi pare invece che il gruppo organizzatore abbia veramente fatto i miracoli, ha messo a un tavolo tutte le entità importanti e culturali di Piacenza e le ha messe a sistema, cosa che non è mai stata fatta prima. Questo progetto è veramente un progetto interessante e di grande valore e credo che possa veramente portare a Piacenza, oltre ad essere tra le dieci città, ma proprio magari anche la nostra finalista e quindi rappresentare la cultura nel 2020. Qual è la ricchezza di Piacenza da sottolineare? Per quanto mi riguarda, penso che le più grandi attività che sono state svolte in città sono state fatte in collaborazione con l'associazione di volontariato e è veramente un patrimonio enorme che abbiamo in città e che credo che vada valorizzato anche e soprattutto attraverso la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni, come viene fatto anche adesso.